Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Menente, allievo di Marco Pellegrino. Pellegrino è sì allievo di Severino, ma non è allievo di Severino nel senso come Severino lo era di Bontavini, per esempio. Quando si allievi, per esempio Aristotele è allievo di Platone, Platone è allievo di Socrate, comunque si prende qualcosa dal maestro, no? Invece Pellegrino alla fine ha ben poco a che fare con Severino, perché Pellegrino ha proprio ben poco a che fare con tutta la storia della filosofia. Perché la storia della filosofia non ha mai detto che un fiore, un libro è la totalità dell'essente, è il tutto in carne ed ossa. La storia della filosofia non ha mai detto che esistenza, logica, fenomenologia, metafisica sono essenzialmente trascendente, trascendentale, immanente, sono tutti sinonimi. Dio, io, coscienza, nessuno ha mai detto. Pellegrino è hegeliano? Sì, hegeliano di base, ma non è che Pellegrino è hegeliano perché ha letto Hegel e ha detto ma, voglio essere hegeliano. Quindi quello che bisogna capire è che il discorso di Pellegrino non ha precedente all'interno della storia della filosofia. Poi, ripeto, che sia corretto sta, diciamo, la verità sta nei libri e sta in questi video che facciamo. Però, al di là di tutto, il suo pensiero non ha nulla a che fare con Severino o con Hegel, in realtà, o con Gentile. Perché nessun pensiero filosofico, almeno quello che conosciamo poi, chi lo sa? Magari c'è stato un filosofo che non ha mai scritto, che i suoi scritti sono stati perduti, diciamo così. Ma, da quello che sappiamo, nessun filosofo ha mai detto che noi siamo il tutto in carne ed osso.